Allora eccoci, ci troviamo a Sori, una palazzina terra-cielo, diciamo, completamente da ristrutturare ma che può essere interessante per un'eventuale operazione immobiliare. Sono circa 115 metri quadri calpestabili per piano, la palazzina si sviluppa su tre piani, poi abbiamo anche degli spazi esterni da utilizzare come posti auto e come giardino che quindi poi vanno ad incrementare quella che potrebbe essere la superficie commerciale. Qui siamo nel piano alto e ovviamente adesso è completamente da ristrutturare e abbiamo, adesso è divisa in stanze, così. Qui siamo a nord, abbiamo il balcone, abbiamo... Questo che vediamo qui sotto è uno spazio, è uno spazio esterno di proprietà dell'appartamento e abbiamo il terrazzo sovrastante a falda piana. Facciamo una panoramica, siamo nel pomeriggio, quindi comunque c'è il sole anche al pomeriggio e abbiamo appunto questo terrazzo bello grande. Ci riportiamo... Giù in basso, quindi la palazzina si sviluppa su tre piani collegati da scala, qui siamo nel piano terzo, poi si scende un piano, siamo nel piano strada e poi si scende ancora di un piano inferiore. Ripeto, sono 115 metri quadri, circa 115-120 metri quadri calpestabili per piano. Qui siamo verso sud ovest, abbiamo un altro balcone. Questa è una cameretta. E niente, qua direi che ci possiamo fermare per rompere il nostro gioco.